Hi guys, fa la galerona, fa la galerina, hola amigos e ciao ragazzuli, ragazzotti, ragazzacci Guardate qui raga, un arcobaleno di T20, siamo in una gara dove la T20 come potete vedere è l'unica macchina che si poteva scegliere E andiamo, partiamo così, che cazzo, ragazzi, cazzo ci salviamo, si che ci salviamo, si che ci salviamo, si che ci salviamo, ragazzi Siamo al quarto posto, andiamo qui di recuperare, di cercare di non farci prendere, ragazzi, dai così, dai Ok facciamo, guarda sto bastardo, guarda come lagga questo, guardalo, ok ragazzi andiamo a fare, eccolo qui lo stunt Proprio così, buono così, è tutto automatico, si, ottimo, concentrati ragazzi, comando, buono così, bellissimo No, no, non vi buttare, bellissimo ragazzi, qui lo sento a sbattere nel muro, siamo qui, alright, ottimo, ci siamo E andiamo così, ottimo, sbattiamo nel muro E, ottimo ragazzi, siamo al secondo posto, vediamo un po' di... e siamo al primo, siamo al primo, no, no, che cazzo è, no ragazzi, come lagga questo Guardate come cazzo, no ragazzi, no ragazzi, no ragazzi, non ci sto credendo, che cazzo sta succedendo Che cazzo di lagga è, guardatelo, guardatelo, guardatelo Che cazzo è questo, è l'uomo lag, questo è l'uomo lag, ragazzi, come l'uomo gatto, l'uomo lag Dove devo andare? Dritto, ok C'è la curva, ma ho paura, ragazzi, ho paura, ecco, ho paura di essere stuprato, stavo dicendo, infatti Mi hanno stuprato per bene Quello lagga in una maniera schifosa, guardatelo, cioè, assurdo, ragazzi Troviamo qui la curva, con la scia molto più difficile, guarda quello come lagga Guarda ora me lo ritrovo dietro, guarda Ancora, ragazzi, come lagga, no, ma sono io il problema, allora, qui Comunque ragazzi, ci siamo, io me ne fotto a questo punto Spingo anche io con la mia scia Andiamo, ragazzi, tutto automatico, quindi non devo premere niente Uh, cazzo, ragazzi Ancora qui con la scia, ragazzi Siamo dietro al leggo e me ne sono tre giri No, che cazzo è successo? Perché così è andata la macchina, ragà? Perché ha fatto questa la macchina? Siamo al secondo posto, vediamo un po' ancora di recuperare questo primo posto Devo essere un po' più cattivo con gli altri, perché, avete visto, ragà Mi hanno veramente stuprato in tutte le maniere, soprattutto quella macchina lì di Fathead Orange Che mi pare sia italiano, quindi, ragazzotto, ce la vedremo Te la farò pagare Siamo al terzo giro, dobbiamo recuperare Leo Gamer Oh, cazzo, il palo è in pieno Ok, ragazzi, quattro secondi e mezzo da Leo Gamer Che credo sia questo C'è uno che va a stare davanti No, Mark No, Mark, non mi piacciono queste cose Cioè, no, non mi piacciono queste cose, però Mark No, queste cose non mi piacciono, Mark Cioè, sinceramente, no, eh Sto volte qua mi fanno andare in... Mi fanno bestemmiare di brutto Ok, sono passato da solo, quindi No, però non mi... Veramente non mi piacciono Quindi potreste anche smetterla Però noi andiamo a sfruttare questa cosa A nostro favore E andare a vincere la gara, ragazzi Quindi magari, magari ti ringrazio, Mark No, sto scherzando, raga Non mi piace fare queste cose Mi raccomando, non fatele Perché fanno solo arrabbiare tantissimo Perché come potrebbe... Cioè, è andata bene a me Ma poteva andare bene anche a qualcun altro E va bene, raga Questa volta la sf... Ma, ragazzi, sto parlando forse prima del tempo Perché c'è qualcuno dietro al mio culo, ragazzi C'è qualcuno? Sì, ragazzi C'è qualcuno proprio qui dietro Il secondo posto Quindi non ho ancora vinto un cazzo, ragazzi E c'è la scia pure E c'è anche la scia Lì, lì, ma vincerà il primo posto Cazzo, ragazzi Che sudore Incredibile, ragazzi Incredibile Spero che il video vi sia piaciuto Qui c'è gente che non si capisce che cazzo sta Guardate qui, raga Che macello E vabbè Ci vediamo Nel prossimo video Falò